musica Grazie a tutti i ragazzi, ciao a tutti i ragazzi, ciao a tutti i ragazzi, tra le 3 no a minuto no a nesca 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 no a nesca 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 non nesca sem jen zdoť z drvá nehožen nesca nesca nehožen nehožen do nehožen nehožen do Ehm, questa montagna è trolle montagna! Trolle montagna! Ehm? Oh... Ehm, oi! Questa trolle montagna! Ehm, parlare con questi idioti. Stai tranquillamente, vogliamo solo arrivare nel cerchio. Questa è questa cosa che uno dice, cosa due fa fa, cosa due fa fa fa, cosa due fa fa fa. Ogni volta. Ehm, enough! Stai da mezza, dimwitzer, vorrei te vedi a vedi a vedi. Enti? Ehm, si vedevano bene, grazie. Per la cavera, prima che ci sono per la morte! Alò a... ... уже si è lesso trollo... Ajajaj... Alò a non posso far male a barricado? Non, non penso di ardu... No... Noi, ma non si vanno. Noi, non si vanno più. Vittoria, capisci? Capisci, ma non si vanno. Ma ancora bisogna andare a cercare il città di elementi. Senti, ma non si. Trazzi a non si vanno a Vittoria. Vittoria, non si vanno. Vittoria. Sposte con questo chatto? Perché non ci porto in un'altra. Mi parlo. Fatti è che tu conosci tanto tanto su negoziare come si fanno su grammi. Non ci siamo qui per te scuola. Non vogliamo toccare le vostre pelle. Poi uscire. Sperre, raffa, sperre! Vittori si vedi la tua parte! Solo parlare, parlare! Vittori! Vittori? Vittori! Vittori si vittori! Vittori si vittori! Vittori! Vittori sì? No facemak! Hmm, ehm... Chcem liamati in questo! Usa i tanti i pazzi! Usa i pass! No giù! Insieme! Sì! OK, ci sono stati di sottotitoli e non lo farò di più. Chiamo di sapere se cosa che metto la mia città! Sei lo uno! Si chiamati a segui la mia città! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Credo che tu puoi loggavi l'amore? Se mi ricordo di Pappy Vesemirsu leccione, leccioni maturano monstri. Te ricordo è bello. Leccioni maturano leccioni maturano leccioni. Si usano leccioni a noi, Geralt, ma non si non si usano leccione. Poi, un pocci di a meno, oi, un pocci di a meno. Oh, questo è un pocci di a meno. Non si usano leccione. Non, solo un pocci. È un pocchio. Immeno non ho fatto capire. Ci si fosse un pocchio. Beh, ci siamo arrivati. Non mi fa nemmeno. Chissà. La bella vista. Voi te. Devono essere, se ti ho scelto. Geralt, chi ti ho scelto? Devo pensare, un cuore pesce? Certo. Ma scelta il resto dei vostri compilimenti per nanti. Voi andare a lavorare. Ricordi, come questo cerco funziona? È stato un tempo, da che ho accettato il mio medallion. È bene, vecchio, non bisogna fare scelte. Pagliare le torche e mettere la falaccia sul altera. Voi fare il resto. Come si stavano? Vac, poi l'asso, poi l'asso? All right, phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements while we catch a breather. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah, used Axie. But I only had to get past one troll. The other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. Since a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me. And the other started rummaging through my satchel. And made the man with the crossbow shoot his friend. And then hang himself. Wow, really great story. Isn't it? Real side squitter, I think. Tell me, you've always been such a cynical bastard. No, I was adorable before Vesemir brought me to care more of him. You think it's that bad being a witcher? Yes, I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. No, but I hate no. Destiny. Let me tell you about Destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back. Then beat me and mom bloody. We prayed for his death. Every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern. Walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. Nobody wanted in return. Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick. I say fuck that kind of destiny. Didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter. Well there's your answer. Alright. We've gripped enough. Let's get out of here. Need to get our swords. Which are with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Which is his sharp back club takes. And home goals. Mhm. Mhm. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Geralt. Let's go. Alright. Let's get back. After you see. Well there's no trouble on us. Diet's around. It's close. The truth is. I'm coming back. I'm coming back. It's close to him. Put on the topic, man, please. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. Me too. I'm coming back. I'm coming back. Pagolico! Pagolico! Pagolico, Crystal! Hai deciso di uscire? Geralt, mi sono scoperto, ma non sono in modo per gesti. Cosa ti ha cominciato? Devo pensare. Questo era il terzo Crystal che esplodano. È stato una settimana, e Lambert non ha fatto ancora ciò che ho chiesto. Vesemir spettivamente chiesa di riparare la scoperta da mezza, e inizia aro 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 aro, aro 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 aro. The guys... They are not exactly happy with me. Hm, why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I will explain everything, when the time is right. First we must finish our preparations. Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it, that stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. You're so upset about Triss, you have to tell me about it. Would you like to go out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know, you've lost your memory, whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you, while you will stop mentioning that stupid head. To be sure that you don't have any words, that better, but... I will try it all for my life. Any more secretion? That's perfect. What do I do? First of all, help Escal and Lambert. They're in trouble to get into the decay of spinal fluid, the other was to зам body the phylactery with elemental power. From the last thing I have yet to see from either of them. I take care of them... Is this so? No, the initiative... That leaves one other trifle to resolve. Come vedete, i miei megascopi funzionano, in modo spettacolare. Penso che c'è una storia che c'è una storia. C'è una storia che fa creare le nostre le nostre le nostre. Dobbiamo trovare le nostre e le nostre. Chiaramente, dovrei contattare qualcuno, è urgente. Chi ti ho contattato a contattarti? O che è anche il segretto? Non segretto. Ida Emion, ricordi di lui? Cosa? Cosa mi potrei lasciare? Cosa di Lodg, Elven sage. Esatto, un sage. Come il nome ha detto, potrebbe sapere un po' di più. Voglio chiedere le domande sull'Uma. Satisfatti? Voi amici, un sage e non so sage, mi ha lasciato prima. Ma se non lo so, lo so. Se non lo so, ma non lo so. Grazie per la sua commissione. Cosa da? Usa questo potest acquizzatore. Potest acquizzatore? Potest acquizzatore? Puede buono, complicato. Ma è sempre così semplice. Si tratta di attenzione, muovere la parte, e il più più si tratta, il più vicino che sei. Mi ha lasciato un giuvenile, por favor. Per la sua. No, cosa chiede? Per la sua? Ah, una cosa più. Grazie, Geralt. Per la sua. Questa quindi in realtà. Niè, chapa politica. Oh, ho trovato un signale. Signale stiavano più 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 più. Quindi, Yonefro trovi un volontario che si riuscì con il tuo scherminio di scherminio. Ah, tu sei. Un scherminio che si riuscì da lì. Cosa c'è in queste cose? Diplomioni di bomba, flammare. Non funziona perché il metoscopo non funziona. Allora, bisogna uscire da qui. Posso farlo. Cosa vuoi? 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 Cosa vuoi. Cosa vuoi. Cosa vuoi. Devoarci la le 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 risponatelle. Grazie a tutti. Grazie, mi sembra di lavoro. Cosa era? Dimiridium bomba. Lambert li lasciano i sui. Hmm, credo che non c'era la idea che potrebbero interferire con megascoopi. Non, probabilmente lo conosce, ma questo è il tipo di prank che tu solo puoi a qualcuno che piace. Non credo che... Lambert? Cosa? 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 Cosa per questa conversazione? Certo che mi chiedi qui? I miei membri di Lodg non lasciano solo nessuno a loro segreti. O che ho sentito. Cosa? 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 Vorrei che tutti si lasciano solo solo la parola. Non si parla di più. Alla prossima conversazione. Alla prossima. Tutto è pronto. Dobbiamo chiedere altri e cominciamo. anche alla prossima Per favore ogni volta che si traciamo Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Paglia di Lambert Per favore Per favore Se chiede a curare UMA Mi chiede che ci possiamo aiutare, è tutto Non lo so, cosa vuoi fare con loro, non ti chiedi di informare Ma non è sicuro, non è sicuro, non è sicuro? Come pensavo. Perchè credo che dovremmo provare un altro, meno invasivo Cosa è questa metoda? Perchè credo di tradizioni folk. Ho usato molte volte. In 1211, per riusciare la cura che ha portato il poviso, per esempio. Ora, prendi UMA in le montagne. Che cosa? Ti chiedi alla luna insieme? Un po' di rispettura, non ti chiedi a Geralt. No, non ci chiedi alla luna. Non, non ci chiedi alla luna. Ti chiedi a lui in una gravestone. Dopo la mattina, ti chiedi a lui un cibo che haffa di... Ma non vedo che ho bisogno di raccontare questo a te. E tu? In mea opinione. Vissi opinione. Vissi opinione, ma non chiedi alla di mezza. Ma chiedi a cosa succede. Mi chiedi alla domna. Con UMA, o chi si chiede a qui vuoi. Perchè? 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 Vesemir ha detto che una strana di cattore della torre bisognava di risposta. Perchè? 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 Cosa che posso fare? Perchè? Perchè? Ma nel momento, Geralt e io mi sono sono. Oh, sembra di così. Ok. Come, Lambert, vediamo in un momento, Geralt. C'è qualcosa non davvero? No, niente. Chciavo prendereci a te lato, senza chciare altri a cosa stiamo. Mhm. E cosa stiamo? Perchè? 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 Wow. Non si tratta di solo. Mi sono troppo vecina per giocare la scuola. Ma se chiedi bene. Perchè? Puoi rimanereci a te lato. Perchè? O due. Tre. Perchè? Come, chi Чтобы. Credo? Perchè? Perchè? Perchè ci è un'atticazione. Non c'era una velocità. Puoi che va avere saprati seguito. Che cosaав te arriverà quelkenazio? Non c'era da nessun tipoтак? жa la possibilità. La!" Perchè? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.